De Lucia a Campomorone, sconfitta esterna contro l'Atletic, si paga un avvio 10 minuti complicati? Siamo partiti male, siamo partiti male, è un atteggiamento che abbiamo preparato la partita a tutt'altro modo, però può capitare, siamo una squadra giovane, prima sconfitta e vediamo se ci fa crescere, perché tante volte gli schiaffi ti fanno rialzare e noi bisogna prendere questa partita sotto questo aspetto, perché aspetti positivi oggi ce ne sono stati ben pochi. Adesso c'è la Fezzanese, se non sbaglio, la prossima giornata è subito un test importante in casa. Dico la verità, è meglio incontrare subito una grande squadra dopo una sconfitta così, perché ci saranno le motivazioni giuste per rimetterci in piedi e sicuramente non avremo bisogno di stimoli una partita così, loro sono partiti giustamente per fare un campionato di vertice, sono la signora squadra e vedremo di cambiare un po' regime. Ecco cosa si salva di questa partita, forse l'avvio della ripresa dove avete spinto, siete andati anche forse vicini a pareggiare. Sì, però sempre non abbiamo giocato il nostro calcio, oggi siamo andati sempre ai due alli, le seconde palle non le abbiamo mai prese, però ci può stare, è un nostro percorso, oggi partita da, che giustamente hanno meritato di vincere. Grazie, mister. Arrivo.